Confartigianato informa, il Sistri, il nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti pericolosi, era stato approvato con decreto e ne veniva sancita la partenza dal 3 marzo. Ma è di questi giorni l'annuncio da parte del Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, attraverso un comunicato stampa apparso nel sito ministeriale, che è in via di perfezionamento un decreto di semplificazione sul Sistri. Annuncia inoltre il Ministro che ne saranno assoggettati imprese e denti produttori di rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti. Notizia positiva che aspettavamo e per la quale ci siamo battuti. E' stato questo uno dei primi commenti da parte di Agostino Bonomo, presidente della Confartigianato Vicenza. Grazie.